Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Sono Tonicame17 e oggi siamo qui per, che ne so, per parlarvi di Counter Strike Global Offensive. Allora, io sto registrando a parte, nel senso ho fatto il video, poi adesso sto mettendo la punta, quindi non mi basta di editare. Allora, quello che io penso di questo gioco è che è una gran figata, veramente bellissimo, a differenza dell'altro che è Counter Strike, come dico io, pezzotto, perché fa veramente schifo. Ecco, come potete vedere, il bello è che quando ti colpiscono vanno a raddelti e poi fa vedere il nemico che ti ha giusto. In questo caso io sento abbastanza bravo. Questa è stata la mia prima partita su Counter Strike Global Offensive. Quindi, che dici? Niente. Ho fatto benissimo, capisco che è del 2012, però quello che a noi serve i server, tipo i server aggiornati di oggi, la gente gioca molto online, però è che non vedo parecchi video in Italia, che ne so, caricati e fatti da altre persone, da altre persone, che ne so, fuori, diciamo, dall'estero. Quindi, spettacolare. Quindi, ragazzi, io vi lascio al video. Ci tengo molto, perché ci ho lavorato parecchio, quindi ecco quello che mi arriva. No, niente, 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 proseguendo verso questo dannato bot e... Sì, andiamo. E ho ricominciato da capo. La bella cosa è che non devi aspettare il round successivo. No, ti uccidono e poi rispondi di nuovo da, che ne so, un altro posto. Quindi, vabbè, anche il file c'è chi, diciamo, più una decisione migliorata, rispetto all'altro Counter Strike. Qua l'ho scelto con questi colpi. E quindi, lasciate un bel like, se vi è piaciuto, oppure non vi è piaciuto. A voi la scelta. Quindi, io vi lascio alla visione del video, anzi, quando mancano, quasi altri due minuti e finisce. E qui che mi uccide... No, 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 non è qui, non è qui. Non è qui, non è qui. Vabbè, io ho figlio, quindi... Ciao a tutti! Fottiti! 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 Mancini! Il nome è John Cena! Are you sure about that?